Ed è polemica sui 90.000 euro annunciati per gli stagionali dell'Eimeri. Sono i consiglieri di opposizione di PDL, Udc, Pisdaz, 5 Stelle, Riformatori, Sardi ad intervenire con una nota nella quale dicono che il nuovo corso dell'amministrazione in tema di comunicazione ha l'effetto istantaneo dell'annuncio pubblicitario che nel giro di qualche giorno degrada ad aria fritta. Ascoltate. Prosegue l'escalation dei lanci pubblicitari sensazionalistici mafasulli della giunta Lubrano. Uno degli ultimi è quello relativo ai 90.000 euro che Lubrano con grande rullo di tamburi dice di aver stanziato per l'assunzione di 25 stagionali dell'Eimeri. Solita solfa, notizia maldestramente contraffatta. Così scrivono tutti e dieci consiglieri di opposizione PDL, Udc, Pisdaz, 5 Stelle, Riformatori, Sardi. La delibera a cui facendo Lubrano ha stanziato 90.000 euro per implementare il servizio di igiene urbana per il periodo estivo per il centro storico, Fertili, Escaro Tarantiello e Piazzale Il Trò e non per assumere stagionali. Una delibera assunta senza grande fantasia, posto che l'esatta fotocopia di quelle analoghe del 2012 e 2011 con la differenza che questa di Lubrano prevede 10.000 euro in più ma non contempla, a differenza delle precedenti, il potenziamento del servizio per la zona Lido. Che poi si legge ancora, come accadeva negli anni precedenti, l'Eimeri assuma gli stagionali non è una novità, così come è inteso contrabbandarla Lubrano. Per onestà intellettuale è bene precisare che negli anni precedenti gli stagionali erano 25 e quest'anno 26, circostanza non nota al sindaco. Ma sempre per la medesima onestà è bene specificare, proseguono i consiglieri di opposizione, che il 26esimo stagionale trova ingresso in Eimeri, non per merito dell'amministrazione ma per la generosità dei 25 colleghi che rinunceranno ad una settimana di lavoro ciascuno. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Il nuovo corso dell'amministrazione in tema di comunicazione all'effetto istantaneo dell'annuncio pubblicitario che nel giro di qualche giorno degrada ad aria fritta. Una vera e propria barbarie comunicativa che incrina il rapporto dell'amministrazione con la nostra comunità che ha il diritto di avere informazioni veritiere. Ed è veramente inquietante che dietro la cortina degli squilli di tromba dell'amministrazione non si intraveda la benché minima idea in tema di programmazione né si scorge il cambio di passo, invocato a gran voce dalla sinistra cittadina, proseguono, quanto meno per l'ordinaria amministrazione. Non si parla di programmazione urbanistica ed economica, di promozione del territorio, dei temi dell'economia, della famiglia e del lavoro. Alghero chiudono, è abbandonata a se stessa e l'incuria e il degrado la fanno da padroni. Sabato alle ore 18 presso la sala conferenze della Fondazione Meta l'Associazione Culturale e Politica Mondo Nuovo organizza un incontro dibattito dal titolo Turismo, la vera industria della Sardegna. Verranno trattati vari argomenti, tra cui l'impianto del Low Prince nel comparto del turismo del nord-ovest dell'isola, differenze con le altre zone della Sardegna, qualità e low cost, effetto Ryanair dopo 13 anni dal suo arrivo. Il problema dei trasporti dai per l'isola, programmazione e promozione degli appuntamenti culturali, il marchio Alghero e quello Sardegna nei mercati esteri, le politiche turistiche della regione, ma anche la bassa fidelizzazione dei turisti stranieri e l'assenza degli italiani. e tante altre tematiche. Interverranno Cristian Mulas, presidente dell'Associazione Mondo Nuovo, Pietro Fois, presidente della Commissione Bilancio della Regione Sardegna, il sindaco Stefano Lubrano, e poi il deputato Pierpaolo Vargiù, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, e l'assessore al turismo e commercio Regione Sardegna, Luigi Crisponi. Spazio anche all'STL, il consorzio turistico Riviera del Corallo. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.